Quante possibilità ha l'Avellino di essere ripescato il prossimo anno in Lega Pro? E' la domanda che ci si pone nei bar tra gli addetti ai lavori, soprattutto dopo il Consiglio federale di ieri poveriggio, un Consiglio federale che sostanzialmente è stato una sorta di compromesso tra la Lega B e le richieste della Lega di Serie C. Alla fine in cadetteria si è deciso di ripartire da 20 squadre, chiaro che portare a 24 avrebbe fatto aumentare ancora di più la percentuale di un ipotetico ripescaggio dell'Avellino perché a 10 punti dalla vetta sì, è giusto continuare a credere, è giusto continuare come abbiamo detto ieri ad insistere, ad arrivare quanto più alto è possibile, però dobbiamo anche tenere conto che questo campionato lo può perdere solo il Lanosei più che vincere l'Avellino. Detto questo, all'orizzonte si prospetta un'altra estate caldissima perché lo stato di salute del calcio italiano purtroppo va sempre di più a peggiorare. Ieri Cosimo Sibidi ha parlato che in prospettiva si sta lavorando per una B a 18 squadre, addirittura una C a 40, ma non si arriverà il prossimo anno assolutamente a questo, è perché ci sono tantissime situazioni che ormai sono già esplose ed altre saranno per esplodere. Sappiamo tutti delle squadre che sono state iscritte lo scorso campionato con Fideussone Fimworld, squadre che oggi non riescono nemmeno a mandare i loro calciatori a giocare, squadre che oggi, a mandare i loro calciatori a giocare, squadre che oggi, a mandare i loro calciatori a giocare, squadre che oggi, a mandare i loro calciatori a giocare, alla revoca dell'affiliazione, ma in realtà anche in federazione hanno delle difficoltà per delle carenze, dei vuoti legislativi, vedremo come finirà, ma il destino appare segnato così come appare segnato il destino di Cuneo, Bisceglie, Rieti, Arezzo e Lucchese, questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che sono posti che verranno a scalare, così come vi ricordate la favoletta delle squadre, delle doppie squadre, quelle che dovevano portare gli under 23 a giocare in Serie C, perché in Serie C doveva essere il campionato dei giovani, ebbene ieri la Juve 23 ha acquistato del prete Bunino e pensate il nostro ex Mokulu, che cosa centri Mokulu alla sua età con questo progetto dei giovani in Lega Pro, onestamente non lo capisco ed è l'ennesimo indizio che il prossimo anno, da luglio, non ci sarà bisogno di aspettare nemmeno tanto per ritenersi eventualmente, ma mi auguro sempre, ripeto, di poterci arrivare per la strada diretta, diversamente ci arriveremo per quella alternativa, perché con piazze anche come Bari primo in classifica, Cesena primo in classifica, Modena e Taranto secondo, insomma l'Avellino che deve gareggiare per un ripescaggio con il Picerno, mi sembra alquanto ridicolo e quindi non si pone nemmeno il problema di ritrovarsi nuovamente tra i professionisti, onestamente non è la strada che preferiamo, ma non è nemmeno una strada che non vogliamo percorrere o di cui vergognarci, non ci dimentichiamo che abbiamo perso la Serie B per una fideuzione presentata dopo 17 minuti male, malissimo, per altre presentate in maniera errata dopo un giorno, due giorni, per tutti i danni provocati in quella maledetta estate, però se noi abbiamo perso per giuste leggi questa Serie B, beh ci sono squadre che stanno partecipando come il Palermo oggi anche alla Serie B e una decina alla Serie C che come dice la frase della Film World erano sine titolo.